La squadra La squadra La squadra La squadra Gollaccio Germania 1 Comunque si è per te Bellissimo La rete della Croazia La squadra 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 Diciamo che il risultato è meritato Va bene Ok da Marco Martorano è tutto Alla prossima Ciao Tremonti Ok Incredibile rete La Germania Pareggia Con orgoglio Che gol Buona La Germania Quota La squadra Incredibile il portiere Milagoli! Grazie per la visione!